Sprigioni legami. L'idea progettuale prende forma a seguito di un confronto tra enti no profit pubblici e privati del territorio e in stretta connessione con la casa circondariale di Biella. In funzione delle competenze e degli ambiti di intervento dei soggetti componenti della rete di parternariato e dei bisogni emersi a seguito di un confronto con l'ufficio scolastico provinciale e consorzi socioassistenziali, l'area educativa della casa circondariale di Biella, sono state individuate tre azioni caratterizzanti del progetto, che mira a rafforzare e a tutelare il rapporto genitoriale delle persone ristrette. Azione 1. Formazione continua ed educazione inclusiva. La seconda azione prevede incontri, dialoghi ed eventi. Mentre la terza, l'allestimento di uno sportello di supporto psicologico sul tema della genitorialità, rivolto all'intera comunità educante e ai professionisti operatori, che svolgono le proprie attività nell'ambito della casa circondariale di Biella.